Amici sportivi, a tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati. È un giovedì santo che profuma di domenica per quanto riguarda lo sport, a cominciare dal campionato di Serie C e dalla lucchese, che proprio giovedì sera al Porta Elisa riceve la neo-capolista Virtus Entella. Rifinitura in un clima che pare ancora gennaio più che aprile per la lucchese sul sintetico di Saltocchio. Rifinitura che non è proprio uguale alle altre, o forse sì. Di sicuro, a meno tre dalla fine del campionato, probabilmente non della stagione, la lucchese sa che è attesa ad un confronto dove ci vorranno maturità, equilibrio e attenzione assoluta e un pizzico di fortuna. Arriva la Virtus Entella, mica Piripicchio, che qualche giorno fa ha completato una meravigliosa rimonta, favorita anche da una reggiana col braccino corto. Co-capolista con i granate emiliani, la compagine di Volpe viene a Lucca con il chiaro intento di fare bottino pieno. Dal canto suo, Maraia deve rinunciare a Cucchietti e Quirini squalificati e deve valutare le condizioni di Franco non al meglio. Ma il 55enne tecnico rossonero a buone alternative ed è conscio che finora la sua squadra ha dato il meglio di sé proprio nei confronti più difficili. Ultimo lampante esempio la gara di sabato scorso a Cesena, finita 1-1, e con una Pantera che ha tenuto testa a quella che rimane pur sempre la terza forza del campionato. Auto Cucchietti dopo circa sei mesi rientra in porta Jacopo Coletta, uno dei giocatori più amati dalla tifoseria. Per il resto Lucchese molto vicina a quella del Manuzzi. Rossonero in campo con Coletta tra i pali, Alagna, Tiritiello, Benassède e Maria in difesa, Mastalli, Franco, Oddalena e Visconti, Cerniera Mediana, Bruzzaniti e Fabbrini a sostegno di Panico, straconfermato punta centrale. Già ricordato più volte che all'andata finì 1-1, il pallone vuol raccontare del clamoroso 3-0 con cui la Lucchese, poco più di un anno fa era il 24 febbraio 2022, liquidò la pratica in Tella. Partita dominata in lungo e in largo dei rossoneri all'epoca allenati da Guido Pagliuca, fu Bellone a sbloccare il punteggio al quarto d'ora con un bel diagonale e Collodel, solo qualche minuto più tardi, ad indirizzare la contesa su binari ben precisi, pizzicando il pallone di testa appostato sul secondo palo. Il punto del 3-0 e del trionfo della Pantera fu avviato ancora da Collodel e siglato da Corsinelli al 92esimo nella più classica delle azioni di contropiede, quando la festa ormai era già iniziata. Stavolta sarà leggermente più complicato, poiché questa Virtus in Tella fa davvero paura, ma questa Lucchese ha il dovere di provarci ancora. In campo, giovedì nel tardo pomeriggio alle 17.30 allo stadio di Saltocchio, anche la Lucchese femminile, le rossonere di Toni Carruezzo, ospiteranno la Solbiatese. Al quart'ultimo posto, con 21 punti, la Fenili e compagne vogliono la vittoria intanto per scavalcare il Ponte d'Era. L'obiettivo naturalmente è quello di evitare play-out, che costituiscono sempre un epilogo quanto mai insidioso. E a cinque giornate dalla fine, giovedì pomeriggio, si gioca anche in serie di partite interessanti, a cominciare da quello che consideriamo il match clou delle nostre formazioni, quello che vedrà di fronte Tau Calcio e Livorno. La partita, ricordiamo, si giocherà al Carraia di Ghivizzano, dove peraltro il Tau ha giocato per quasi tutta la prima parte del campionato. La sfida è molto importante per la squadra di Giancarlo Favarin, ancora relegata nella zona a rischio della classifica. In questo momento il Tau sarebbe fuori per un punto dagli spareggi salvezza. Ma la giornata vivrà anche sulla trasferta del Ghiviborgo ad Orvieto e del Seravezza sul campo del Follonica a Gavorrano. Nel girone di, il Real Forte riceverà il Necchi Balloni, il già retrocesso salso maggiore. Le partite avranno inizio alle ore 15. E giovedì sera scende in campo, ma passiamo al basket, anche il basket Lemura per gara 1 dei play-out. I dieci giorni più lunghi dall'ultima gara, giocata e perduta a palatagliate contro la Iwerg Faenza, che ha complicato il cammino del Gerson Lemura in ottica spareggi salvezza. Nel primo turno del play-out, ricordiamo che delle quattro protagoniste, solo una accompagnerà Brescia e ne ha due, le bianco-rosse di Coccia Andreoli se la vedranno al meglio delle tre gare, ma con lo svantaggio dell'eventuale bella fuori casa, con la Kronos Moncalieri. Con Pagine, che rispetta la regular season, ha ritrovato un elemento del calibro della cecchina, Marzia Tagliamento, specialista nel tiro da tre. Come dicevamo, sono stati giorni intensi ma proficui per Luca Andreoli. Il coach poloniese ha potuto finalmente lavorare con tutto il roster, sedute di allenamento nelle quali nulla è stato lasciato al caso, anche perché nelle prossime partite ci si gioca tutta la stagione. Gara 1 giovedì sera, 20.30, al Palenaudi di Moncalieri, a porte chiuse, mentre gara 2 si disputerà lunedì, giorno di Pasquetto, ore 18, al Palatagliate. Eventuale gara 3 ancora sul campo delle piemontesi, venerdì 14 aprile alle 20.30. Ovviamente al momento non pensiamo al secondo round e play-out, pur segnalando che nell'altro confronto salvezza saranno di fronte Faenza e Bruschi-Valdarno. Il pallone a spicchi racconta che due confronti nella stagione regolare hanno prodotto un successo a testa, ma sono precedenti che a questo punto lasciano il tempo che trovano. Si sa che gli spareggi per non retrocedere sono tutt'altra cosa. Nella passata stagione, la prima della propria storia in A1, Moncalieri guadagnò la permanenza in categoria, superando nel secondo round Broni. Per Lucca, invece, si tratterà del terzo play-out, dopo quelli sempre vittoriosi, contro Napoli nella lontana annata 10-11, la prima in A1, e quella più recente contro un'altra campana, Battipaglia, due anni fa, nella stagione 20-21. Il settore giovanile dell'ASD, esercito 187esima folgore di Livorno, ha preso parte al primo international al karate Sardinia Open. Brillante terzo posto del lucchese Andrea Bozzi nella classe Juniores, 16-17 anni, categoria di peso, meno 76 kg. Prossimo appuntamento per l'atleta blu-azzurro, l'allenamento della nazionale italiana giovanile con il seminario, che si terrà da giovedì 6 a sabato 8 aprile, vediamo Bozzi sul podio, a Riccione. Alla palestra Jacopini di Ponsacco, prima prova regionale del circuito serie di settore silver di ginnastica ritmica. A difendere i colori della Gym Star Capannori, quattro formazioni. Brillan particolare il quintetto dell'allieve livello LB con Aurora Morganti, Laria Montesanto, Sveva Giovannetti, Bianca Salvadore e Giulia Segna. Le vediamo nella foto che ha conquistato una bellissima medaglia d'oro. Bene anche la formazione delle più esperte, che si è giudicata al terzo posto nel livello LD Open, ovvero Martina Francesconi, Rachele IV, Nicole Khabib e Rachele Bertini, con riserva a Sofia Pisani, che hanno presentato il collettivo a corpo libero, la successione pallanastro e l'individuale a cerchio. Intanto la pugilistica lucchese torna dai campionati toscani di Carrara con due titoli. Il piccolo guerriero rosso non si smentisce. Parliamo di Riccardo Colombini, una delle promesse del pugilato nostrano. Al palafiere di Carrara conquista il titolo di campione toscano, disputando il migliore incontro della sua ancora giovanissima carriera e battendo vittorio principe della pugilistica carrarese nei 44 kg schoolboy. La prima ripresa ha visto il tredicenne pugile lucchese in difficoltà contro un avversario più tecnico e dotato di maggiore allungo. Ma nel secondo e terzo round l'allievo di Giulio Monselesan è salito di tono, imprimendo al match un ritmo infernale che costringeva principe alle corde e anche al clinch per arginarne la furia. Alla fine il verdetto lo premiava, confermandolo una piacevolissima sorpresa. L'altro titolo regionale è arrivato da Giancarlo Lemmi tra gli junior 50 kg. Il pugile Garfagnino ha saputo gestire e amministrare il combattimento con il più esperto Andrea Balistreri della Fight Gym Grosseto. Lemmi perdeva di misura la prima ripresa ma poi si imponeva impadronendosi del centro del ring, schivando e rientrando con la sua proverbiale eleganza. Anche Lemmi ha meritato il verdetto che lo laurea campione toscano. Battuti in finale con verdetti più o meno equi invece Lauti Abdi Albutairib, junior 44-46 kg, David Lorandi, schoolboy 46 kg, e Luca Italo del Tessandoro, junior 57 kg. Nella classifica squadra è pugilistica lucchese al secondo posto dietro la Salvemini Livorno. Colombini e Lemmi accedono ai campionati interregionali di Roseto degli Abruzzi dal 23 al 25 aprile. Sascha Mencaroni, 46 kg, junior invece già qualificato alle finali nazionali, sempre a Roseto degli Abruzzi a fine maggio. Ma questa è un'altra storia. E con il pugilato si chiude anche la pagina sportiva del TG9. Come sempre vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa pubblicitaria, il telegiornale prosegue con la terza ed ultima parte.